La situazione a Zaporizia tiene in allarme il mondo. L'appello dell'ONU ha un cessare immediatamente tutte le attività militari nelle vicinanze della centrale nucleare Ressena ascoltato. Secondo i filorussi un colpo d'artiglieria sarebbe stato sparato dalle forze ucraine a soli 10 metri da un deposito di combustibile nucleare esaurito nell'impianto. Per Mosca gli atti criminali di Kiev contro la centrale spingono il mondo sull'orlo di un disastro nucleare paragonabile a Chernobyl. Pronta la risposta del premier ucraino Zelensky, secondo cui solo il ritiro completo dei russi garantirebbe la sicurezza nucleare di tutta l'Europa.